Per Piemonte e per l'Europa, gente piana e gente libri, suma alerta, gisla piota, com'ardurti dai antichi. Piemonte a dita d'amor, calata nel creatur, cameMonte, viemonte o viene, si brandè del nostro rum. Boondì a tutti noi, se rispondo a qui siamo pronti chiusciti uno po' di Flera, poi vorrei vedere che non vi ha già visto�지 anche me, ahn me, maconsciousi tutti da ora. Quindi, questo, è un bambino, e anche io l'ho pensato per leve, per cambiare, la quaresima e la Pasqua. Non saranno tante cose nuove, tante cose già, ma prima le abbiamo presto un po' insieme. Rinfresciamo le idee, perché allora la quaresima, l'ho parlato con Barba Guido e allora la suggeriamo, diciamo che cerchiamo di ricordare quei due o tre poverbi che sono la quaresima, che sono anche simpatici, il primo è come si dice, in una maniera di che adoro tutti, cioè non come la quaresima, e quindi la quaresima si riferisce a un sacco di cose, cioè l'ho fatto una pratica, arriva mai alla fine e dice, ma qui lì sono la quaresima, c'è il parco che faceva le prediche una volta e finia mai la predica, ma se tu previ le proprie la quaresima e basta, e alla fine si scherzava anche un po' per dire, magari io che andassi un po' più adassi, ma che lì è lungo la quaresima, e senza offendere, perché poi nel caso di offendere ha queste cose lì, perché sono cose che, purtroppo la quaresima, la celebrazione è cesa, che per oggi era abbastanza, i 40 giorni sono abbastanza lunghi, che si riferisce ai 40 giorni di Mosè sul coso, 40 giorni non si sa il deserto, insomma i 40 giorni, sono tanti avvenimenti importanti. Non ho provato la quaresima, ma le dice, che questo è un po' parei, la quaresima è curta perché devo pagare a Pasqua, è chiaro che se io l'ho impegno e magari dal portafoglio ancora quasi vuoi, e devo baronecchi i cosi per arrivare, aggiunte le cinghe per Pasqua, a Trevola e la quaresima invece è desilunga perché è curta. Quindi, diciamo che sono quelle cose che vanno bene da dire, e entra a ricordare, tanto per fare qualsiori, anche se sono a quaresima. E poi è un'altra cosa, d'un'altra maniera a dire, che l'hai trovato, che dico, quando il pare ha fatto qualsiori, ha i fioi toccato la quaresima. Quindi praticamente se il papà si prega un po' tutto, durante le feste di qualsiori, i fioi si sono obbligati a fare quaresima perché le riserve sono finite, quindi vanno a fare quaresima per forza. Quindi, diciamo, questa quaresima che sono 40 anni, che dovrei praticamente obbligare un po' tutti a fare il giugno, a prendere un po' di più e anche a fare adesso un po' di più caritatevole, magari non sempre, insomma, buo a fare, insomma, farei. Direi, quindi per me, non c'è da dire a livello così, d'avvenimento, proverbi, sono fermati lì perché non trovo niente di altri argomenti interessanti come proverbi. Poi lui che scudo ne avrà tanti di altri piccami, però noi non mi rinfresciamo un po' che bisogna dire. Praticamente, c'è anche il veicò con te una storietta per fare quaresima, perché il parco, mi ricordo quando mia nonna diceva per fare quaresima una volta in Autiganio, che il prezzo era andato a Cattè, a fare spazio nel negozio, noi c'eravamo la buttega nel paese, e la chiamava che andava in sala a me, e l'altro dice, ma che guarda, eh, il reverendo che ha assumato quaresima, lì era a venire, e che ha detto, beh, allora dammi una scatola e talcardo. Vedi, anche i previ, poi, scherzosi, ma comunque... non è ingrignante, ma mi adesso passo a una cosa un po' più seria. Bellissima. Che per me l'è stata una rivelazione, non me lo sapevo nemmeno, e penso che anche per voi altri, per quei due, almeno voi altri, sia una novità. Allora, mi vuoi dire che l'accesa, non sarebbe così, ultimamente, ha fatto il cambiamento, no? Mi stanno nemmeno a parlare di altri cambiamenti, ma ho detto, ma che so sì. Tutti voi altri, tutti noi altri, perché anche noi, conosciamo cosa è la via croces, la via della croce. Quindi, la via della croce, cosa fuma? I fedeli accorrono, soprattutto, il momento doloroso che Gesù ha passato, da quando all'estate, pia, fino a quando all'estate, butasse la croce. Ecco, su un momento, che noi chiamiamo la passione. Ecco, allora, con la via croce, noi viviamo tutti i momenti, tanti sono le stazioni, che noi chiamiamo la provata di tanti dolori, ma anche dolori enormi. adesso la Ciesa è la giunta, dalla Pasqua un po' perché so sia ben in la Quaresima, fino al Vener Sancte, no? Poi, noi abbiamo le amore, a tre volte del Domestì, e vediamo che con la via lucis, la via lucis, la Ciesa, c'è la via della luce. quella che aiuta, aiuta noi cristiani a comprendere in profondo l'escol momento della Pasqua. Qual è l'escol momento della Pasqua? L'epinente la passione, perché noi non siamo già morti, ma è la resurrezione. Ecco, vale a dire, tanti dicono, per crucem, ad lucem, che vuol dire, attraverso la strada del dolore, arriviamo alla luce. Perché? Perché, da che mondo alle mondo, niente appello, di, e non aveva preoccupazione, e passiamo un momento doloroso, e insieme ad altri momenti belli. Ecco, ma noi Duma, veramente, fa come la fai noi signori. Sarà difficile coprire noi signori, però, Duma segue la sua strada. Sì, sì. Quindi, è una realtà del dolore, che alla fine finisce, perché con la morte, noi signori vuol dire per noi, che saranno tutti in paradiso. Se lo vogliamo, se lo vogliamo andè, perché chi interessa nemmeno signori, sai anche chi sia, è la vedrà chi è. Bene, mi vengono di so. No, beh, per poi, il dolore di rispondi, l'autodomine, o quale, ieri, domenica, anzi, un venerdale, che faccia la via Crucis, adesso, la nostra parrocchia, commentava tre stazioni per volta, perché faceva anche riferimento ai quadri che aveva fatto, la stazione che sono nella nostra parrocchia, e l'ha detto, che la quaresima per lui, doveva essere, non è che sia un tempo, tanto triste, perché domenica, vengono del cuore, che è Pasqua, quindi, insomma, che poi, la Pasqua, la Pasqua, la Pasqua, la Speranza, dovevamo vederlo, con una certa, positività, una certa, perché altrimenti, cogliendo al cuore, perché altrimenti, vuol dire, che vado a pregare, se pensi nemmeno alla Pasqua, ecco, allora, poi, se volummo, di che cosa, noi, se era, il nostro amico, il nostro amico, poverino, da ricordare, Davide da Milano, quando era venuto, proprio a parlare, se la quaresima, che l'aveva portato, questo fai, che l'aveva pescata, l'aveva scritto, Brero, penso, Brero, sì, la Mut di Brè, che quel paese, si chiamava la Mut di Brè, però, in pratica, la Camilo Brè, e l'aveva, cerca proprio, quello che era, la quaresima, una volta, che adesso, praticamente, sarebbe, difficile, riuscire a fare pare, perché, se stuma tutti, troppo bene, meno male, per fortuna, perché, e allora, come quel, dice, a Milo, mi ha invitato a leggere, non che l'aveva scritto, perché, quando che il benessere, alle ranzioni, alla povera gente, che era la maggioranza, escoaresimava, dal Bonan, a San Silvestre, la quaresima, a riuscire ad aggiuntare, in una maniera mirabile, e ben accettare, la penitenza, alla penitenza, che es faceva già tutti, sempre, e la quaresima, allora, era una cosa seria, e la brava gente, aveva praticamente, spiegando, che, quaresima, alta o bassa, che sia, a serva, felicità, come a dire, mentre, pulì di dritta l'anima, l'avesse un po', l'anima, e l'era abbastanza importante, si, l'aveva anche l'on, perché la quaresima, va con alta e bassa, in base alla Pasqua, perché, è così, e la quaresima, avrei a detto, in un'anima, poi non fai drabelle, poi non fai fai fulandrat, e, diciamo, car le vè, a pianta drabelle, e meno, e meno a dura, e più a le bel, e aggiunta, o la quaresima, le greva, per la sender, e per il vener, ma, i piac, a piac, per sua pace, per portare la pace, e l'arrabi in spiega, perché, dal proverbe che si dice, il car le vè a mangiare, l'economia, e la quaresima, e poi, e faccio un po' d'economia, e poi, aggiuntavo, a fare un po' d'economia, con le vè, forse, le famiglie, avevano anche, da un giorno, proprio, di un certo obbligo, per cercare, magari, di mettere, che i costi da parte, in quel periodo lì, certo, e poi, e poi, hanno l'espero, che i costi, e magari, adesso, non so, se l'uomo, da parler, ma si, ne parlo, sì, allora, in effetti, la povera gente, sapea bene, che l'economia, a San Camino, ha per mangiare, e ha fatto bene, e alla salute, e al burgecino, vi autiseve, che il burgecino, sapea, alla sacoccia, al portafoglio, sì, sì, anche io, che le carlevetto, l'economia, aggiunta, a spendere più, già il mercoscurato, ho detto, le sue, una volta, ma una volta, che le pene, imparai, le patate, avnesio a tavola, abbiamo il posto, col poche, ci-ching, e al pan, ci-ching era la karma, proprio poche, mentre le fave, i cisi, e i fasi, abbiamo il posto, e la pasta, ecco, chissà quanti, noi altri, voi altri, si ricordano ancora, forse la propria, vivuta, lo so, sì, ma è una volta, spazio, al posto, le patate, vi dice, ha fazio, sua bella figura, le fave e i fasoi, in umido, in salata, o anche in la mestra, certo, certo, però io mi ricordo, di fatti, forse, anche ti te ricorderai, mio papà, mi ricordo, parlo di mio padre, perché mi ha visto, mio nonno, che invece, buttare il succo, nel caffè, nel caffè, non, ma anche nel lei, perché il caffè è più grande, bisogna più lecce, e buttare un po' di sale, no, sal, giusto, invece del succo, per fare penitenza, poverino, e poi da si a travaglia, e dice, sì, in effetti mangiava la succo, senza caffè, e senza succo, ma, non mi ha pensato, a mangiare il lei, non mi ha pozzare, per la succo, era una brava persona, e che non dimostra già, l'abbiamo proprio, dovevi ad fare penitenza, e quindi, così, d'altra parte, e poi, è vero, che, nelle giornate di giugno, niente, si incalava a mangiare, prima, l'ora nona, l'ora nona, salia, è il tre botte, domenzi, per quando è morto, è un signore, e allora, a quell'epoca, a quell'domenzi, anche chi era abituato, lontano da questa festa, per la merenda, si incalava a penitenza a mangiare, certo, certo, quindi, all'ora nona, e tutti i venneri, l'anno, assunnavo i botte, del venner, il botte, malinconiuse, lamentose, e proprio, tanto mamma, hai dissi, a Camillo Breckel, era mazzana, si, senti, Gesù, amore, prego ma, assdisia il padre, il padre nostro, come dici, e, grazie a Gesù, e spursia, a Camillo Breckel, e il crucifisso, e la sua corona, da Basile, ecco, Camillo Breckel, e le nu, Bing Wey, che le morte, che gli anni fa, e lui, ma tanto parlare, ecco, la sua infanzia, era accusta, era un'imprunta, veramente, cristiana, eh? Eh sì, certamente, ma poi, penso, ma la quaresima, cioè, mi penso anche, come l'uomo avevano anche noi, senza esagerare, però, tanto, prima, ricordo che, mamma, tutte le sere, ero sari, e non si discutevano, e, andasi a bimparare, per cui, e poi, e tutti, era pagnoi che discutivano, erano tutti contenti, di partecipare, e poi, alla fine, dici, beh, le vi fette, magari, diciamo, una preghierina, andasi a cercare, quei libretti, quei cose, e, e poi, insomma, l'era, l'era, proprio, nemmeno sforzo, perché, lo vedete, che lo facessimo tutti, e lo facessimo volentè, la gente, nemmeno si preoccupava, di ma, sì, erano contenti, di queste cose, per cui, e poi, è bello, perché allora, anche se io ero povero, pensavo già agli altri, certo, lo che ne avanzasse, per la quaresima, venia Deit, ad altri, che l'avevano forse, più da un sogno che noi, ecco, e, l'è bello, perché, ad esempio, a cosa riguarda, è proprio Camillo, che dice, che durante la quaresima, mamma incugiava, recitando la nina nana, che ha disia, col ricong e l'epolum, che l'imosna la mai fa, paradis, la bussara, e all'interno, le tomba, quattro vers, ma delineo, già la situazione. Sì, 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 ma sì, perché qui dice, che in la dieta quaresimal, hai entrava col vini, in quaresima, as di, fin al vini, devo arposare, per migliorare, quindi, non la savo, non la savo, non la savo, un vecchio parell, migliorava, le nyanca spaglia, come idea, ne, ma che allora, avevo got piccata, che se la bevi esnet, diventava brusca, come che, c'è, e, poi, insomma, che in la quaresima, per ricordare una cosa, dove, pertanto, nemmeno per soltare, ma, che dicevo, parlavo prima, con l'avvenimento, che fa a Villa Falet, sì, per esempio, che vengono a dire, che magari la gente, è quei due, che lo chiamano, praticamente, il mortorio pasquale, il mortorio, che lo fa, ma, è il martes, l'ultimo martes, d'oficina, tard, e come, i sono, i sono, 500 partecipanti, si, desti su tutte le luce, tutto il paese, la processione, le fai tamà, come le candele, in vische, e tutti i drabnei, e tutte le compagnie, che hanno, anche tutti i costumi, che l'hanno mantenue, viva, e l'hanno piaci d'avere, di ciò, e d'acqua, se tante capelle, e noi, lo porto, lo destaco, dalla croce, lo portano, coricato, e poi, arrivo, torno, andrinta, la cesa, la cruza, che la chiamo, la cruza, la confraternia, della misericordia, ma l'ho chiamato, la nera, perché, perché, era tutta la nera, tutta la nera, quindi, per dire, che c'è ancora, questa tradizione, e così, è una cosa, veramente bella, che se, ancora, ne ho visto, se va a Villa Falette, secondo me, è sorprendente, d'avere una bella, funzione, pare, emozionante. dici bene, perché, mi l'hai vivuta, tutti mescoli, si, l'ho deciduto, si manda, in la serra, d'opsina, ma guarda, che tutti, c'eravamo pa, l'havia da guarder, e poi, cosa l'hanno dimen, in Dumaschola, oh ma, certo che l'era un po', frusa, l'era un po', faceva anche se già, e non è una cosa, non è una cosa allegra, e allora, l'uomo, pia là al momento, per parlare, e fare vivere, quelle emozioni, che purtroppo, non si no, la doveva provare direttamente, quindi, indico, ovunque, se, adesso andava più avanti, ove, lesi, quelli che l'havisca, ecco, pruma lesi, c'è una poesia, da lesi, ti, pruma lesi, ti, pruma lesi, rabbi, lesi, la rabbi, pruma lesi, la parola preciosa, pica il pan, e la gent, amnesia da lontan, per andare appres, a suo bel rabbi biunt, che gli animi, a guarìa, fin a un fond, benedizent, con un gest, l'arga de la man, predicava nos nure, e assuridia, posant leggera, eccoce a la caressa, esle mazna, che pregavo, inginuio, e suo sorris, all'era piena tristessa, perché la sera, un feu, che la vedì, alla cruz, dritta, in tel ciel, tra i due ladron, quindi un pacote. Eh, in pochi versi, l'ha detto, è detto, una descrizione formidabile. Allora, mi approfitto per lesi, invece, una poesia, che l'è di Virginio Ilotti, anche che l'è, sì, su mabbina andare in tel tempo, e l'ha scritto, la via del sabba sante, e l'ha leso, perché poi, insieme a questo, ho leso, una volta, curta, l'è una prosa, l'è una prosa, mentre questo è una poesia. Via del sabba sante, l'accesa, fredda e sombra, besbiglia la gente che via, im sento strengse il cuore, e arvivo un'agonia. Termola è il cielo del Sirio, le mani a cui il cielo ruro, sono ombre che si slungo, per cercare il fuo e l'amore. L'umine che si spattano, ma unì, intendo il splendore, s'ambiscutante l'ampe, la luce, la luce è un signore, le ciò che assunono la gloria, anche io, all'er suscita, colom, pendi alla cruz, che i gran, i gran all'anna sa. Ecco, anche se, ero abbastanza, un po' che riesci a dire, piuttosto tanto, però certo, riesci a dire, a chi è zon, sa via almeno che cose. Allora, adesso si, su poesie, mio lesario, il sabba sante, la sapere, sabba sante che l'è, e nina otelli, quindi siamo già all'inizio del nascente, nina otelli, l'era un gran, gran poeta, che nante il 1903, all'è però morta del 1945, quindi l'abbiamo a 42 anni, l'abbiamo a fare la guerra, quindi l'abbiamo a fare poco, ma all'està in Massa, per l'onca, l'è morta a 42 anni, e l'abbiamo scritto di due oeuvre, l'ultima l'è Masna, e la prima l'è il Panet Kua, allora, sabba sante, e se le belle, simpatiche, le cercare, cercare il sivolo, perché, es faceute cose, che in questo, fanno più bene, se ne parli ai giù, grigno, dismo, appena che si spaziava, l'aria pulita d'Avril, e il primo botte, le ciocche, che suonavo, baudutta, e il sole, all'improvvisa, sortia fuori, dalle niule, via che mi curian l'ord, ambrassé, una per una, le piante belle fiorie, et persi, et pum, et cerese, e poi, su, con il cuore, am festa, alla veme la faccia, rienta, a un leva, bella caira, che mamma, attirava dal poes, e chi la, im ricordo, adesia parei, e nensi veme i joi, così, che am restava, insieme alle perpeile, e im la sentiat, conto il cuore, non rosa, tutta fresca, con quella calosia, un slurba nuvela, qua, ecco, penso un po', senza che, parlo anche della campagna, per la città, è difficile, andare in nord, in giardini, ma anche in campagna, c'è poco che vanno, a ambrassare, le piante, le fiore, e la frutta, oppure, a lavesse i joi, gli anciani, in cura, forse che divenne, però, e io, 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 prima di fare, ancora ricordate, a tutti, che una volta, faccio con i fioretti, che i previs, faccio i fioretti, le maestre, faccio i fioretti, a scuola, e poi, la più bella, è che l'avevo, con la storia, di un bosco, che chiaro, faccio i fioretti, e so, perché, parlavo sempre, piemontese, e dopo, che ero, faccio l'unità d'Italia, dove io, parli italiano, e lui, facevano i fioretti, dovete parlare italiano, e lui, per fioretti, parlavo italiano, come se, in Roma, ma in Roma, perché, praticamente, l'uma, l'uma, sarà già la cosa, saluto, ma, come sempre, il tempo, passa al vol, e lui, questo, ma, vengo, poi altri, e allora, saluto, ma, e si vedo Roma, la volta che vengo, parla Roma, e la, Pasqua, che è una festa, e, fumare auguri a tutti, pochi, e per Pasqua, mi raccomando, perché pensi, con la salute, ma sì, e già le columbe, che volo, sono già da partire, comunque, buonasera a tutti, tanti auguri a tutti, per Piemonte, per l'Europa, gente piena, e gente libri, su malerta, di sla piota, con l'ardur di tajanti, piemuntar di tadamu, calata nel creatu, piemuntare, che è un teo, vive, si brande, del nostro rumore, Grazie.